camminando nel bosco piano piano a un certo punto vedo una bambina che mi dice guarda due funghi che belli ma ce ne sono altri di funghi dove? dentro là nel buco altri due che belli due vediamo un po un altro e sono già 5 5 5 2 della tasca 5 6 e 7 e poi vediamo un po se ce ne sono ancora 7 nel buco 8 8 8 vediamo un po se ce ne sono ancora 9 belli funghini 9 e camminiamo camminiamo 10 10 ne hai trovato un altro che bello 11 vediamo un po se ce ne sono ancora di quei bei funghetti nel bosco 11 siamo rimasti a 11 guardali lì 11 12 13 14 vediamo anche una capra 14 vediamo un po vediamo un po se ce ne sono ancora perché ne abbiamo trovati solo 14 giriamo 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 guardali lì 15 16 17 qua un altro guardalo lì sotto il sasso 18 18 ma che fortuna dammi 5 e vai è un altro nel buco che ha trovato la viola wow wow